bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quanto riguarda il futuro di fortnite e che futuro di fortnite eh sì ragazzi perché la notizia ufficiale la stagione numero 2 è stata posticipata direttamente al 2 giugno o al 4 non mi ricordo comunque a giugno ragazzi ma parleremo anche di alcune cose che stanno succedendo per quello del nostro tfew e anche un discorso di ninja prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle news ma insomma ragazzi tanti gli argomenti che voglio trattare anche la storyline andrà ovviamente a modificarsi un sacco di update ma la domandina ve la devo fare comunque ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi è molto interessante ma te alla fine cosa ne pensi del ritorno del missile teleguidato e sì perché l'abbiamo visto ragazzi nel video news di ieri è stato confermato praticamente anche il ritorno del missile teleguidato che in realtà avrà qualche leggera differenza nel senso si utilizzerà per abbattere gli elicotteri io credo che se così fosse andrebbe assolutamente bene nel senso cioè uso un'arma che mi butta giù solo ed esclusivamente gli elicotteri o secondo me locca anche i veicoli ci può stare ma se deve essere come quello che siamo stati abituati ad avere nel 2018 assolutamente no era diventato troppo pippo e la gente ci volava sopra succedevano cose strane dimmi cosa ne pensi te invece qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito ragazzi a parlare due secondi del pack plus per chi non lo sapesse e sta giocando la playstation è disponibile il pack celebrativo in tutto il mondo già da dalle 2 di notte di ieri quindi mi raccomando è totalmente gratuito non dimenticate di andare a riscuoterlo lo trovate ovviamente nel vostro store lo potete riscattare senza problemi e vi portate a casa una bella skin ci tenevo a ricordarvelo mettiamo che qualcuno se ne fosse dimenticato ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi una collaborazione che in realtà sa ancora di un po' perdita di tempo come vediamo c'è una collaborazione di fortnite con quibi io sinceramente non ho idea di che cavolo sia quibi però come vediamo appunto dall'immagine c'è sicuramente un nuovo mini evento a rapide rischiose come quello che è successo per punk punk era un po più famoso vi ricordo ma lo avete visto sicuro a parte che era bagato anche quello a livelli osceni a tutti ha dato la vittoria reale gente si è pigliata le barrettate in faccia insomma sono successe cose abbastanza ambigua anche che il video non sappiamo ancora quando sarà esattamente l'evento ma è già confermato se qualcuno conosce che cavolo sia quibi ragazzi me lo scrivo qua sotto perché io non ne ho assolutamente idea ma non credo che ci sia niente di cui emozionarsi ma andiamo avanti invece con il prossimo argomento di oggi ragazzi è proprio la notizia che sta in questo momento rimbalzando in tutte le parti del globo su tutti i forum di fortnite l'estensione della season se ne è parlato tanto nella precedente settimana forte anche il fatto che abbiamo visto ci sono tre nuove patch in programma e il fatto che ci fossero tre nuove patch ci ha fatto capire che quasi certamente la season sarebbe stata prolungata questa settimana arriverà la patch 12.40 ma abbiamo anche già pronta la 12.41 e aspetteremo invece la 12.50 la season è stata ufficialmente prolungata al 4 giugno ci avevo preso prima al 4 giugno questo in realtà darà la possibilità ovviamente a tantissimi di voi di poter livellare il pass battaglia e quindi ottenere le skin dorate degli agenti apro parentesi visto che me lo scrivete in 100.000 ogni volta raga non serve giocare la gente per averlo d'oro basta che livellate il pass battaglia potete fare quello che volete non è necessario anche se non uso miascolo non posso maxare miascolo quindi non preoccupatevi giocate con le vostre skin preferite la cosa molto interessante comunque del post che fortnite fa direttamente sulla sua pagina news è quella di includere nel tempo in cui si è prolungato si è prolungata questa season devo dire che ha senso che questa season sia più lunga anche perché ovviamente è il dramma mondiale sta colpendo tutti e ovviamente anche le sedi di ap games sono chiuse quindi mi immagino che le persone che ci lavorano dentro magari non hanno proprio tutto questo tempo da dedicare come se fossero in azienda comunque garantiranno un sacco di nuove missioni garantiranno dei mini eventi garantiranno tanti tantissimi punti esperienza è vero che ne servono tantissimi però dai ragazzi tanta roba potete finalmente farcela anche voi ad ottenere le skin d'oro la pili gold la gold banana andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi una cosa molto interessante sta succedendo anche per quanto riguarda la mini side storyline che cos'è la mini side storyline è praticamente quella quelle cose che succedono in game che fanno parte della storia in principale ma sono minori in questo caso si parla della sedia d'oro di mida ne abbiamo parlato anche qua in già un paio di settimane che ne parliamo la sedia d'oro di mida quella che era presente all'agenzia è stata rubata è stata caricata su un pick up e che si è spostato nella mappa e sembrerebbe che in questo momento ve la faccio vedere un pochettino meglio l'immagine in questo momento sia a parco pacifico nella casa blu di parco pacifico se non ricordo male potrebbe essere parco o potrebbe essere corso commercio ora non lo ricordo con precisione la cosa però molto curiosa è che vicino alla sedia c'è sotto la spazzatura un poster degli spettri e quindi si rafforza il discorso che mida passerà dalla parte delle ombre come già avevamo visto nella schermata di caricamento di mida insieme a sky e a brutus che sono appunto in questa fazione questo potrebbe voler dire qualcosa non lo so magari nella prossima season che secondo me includerà ancora gli agenti vedremo direttamente le location principali quindi inter città convertite ad ombre o a spettri non ne ho assolutamente idea però io cerco di tenervi sempre aggiornati su quello che succede e per terminare ragazzi il video di oggi è successo di nuovo un casino ieri se avete visto il video news vi ho fatto vedere lo spezzone in cui tifu si lamentava pesantemente per quanto riguarda lo stream sniping nel competitive c'erano dei giocatori che hanno landato tutte le partite dove giocava anche lui al grotto quindi per noi è la grotta che appunto il suo punto di landing con l'unico obiettivo di andare a killarlo abbiamo visto anche degli spezzoni dove sembrava ed è molto molto veritiera questa cosa che due team addirittura formati da coppie ovviamente si giocava in coppie timavano con l'unico scopo di killare tifu addirittura viene fatto un post su twitter da parte degli starving astros che dovrebbe essere appunto la compagnia che gestisce questi due ragazzi che sono disgustati dal quello che tifu ha detto e ha fatto ed effettivamente c'è una clip in giro dove c'è un tifu abbastanza arrabbiato che impreca come se fosse un montanaro bergamasco che si è battuto un martello sul dito dicendo non è possibile che vi state lamentando sul discorso che io vi ho accusato di teaming se per sei volte l'andate nello stesso posto dove l'ando io e se sapete chi sono io non ha senso che proviate a difendervi dicendo che l'andate così a caso è ovvio ovviamente che verrete killati e giustamente è ovvio lui dice che stavate teamando perché ci sono appunto degli spezzoni che fanno vedere come ci sono quella specie dei segnali tra un team e l'altro che lasciano un po a desiderare un po come è successo nella prima settimana dell'fncs dove i due team si trovavano a putrido pantano si facevano delle hit per evitare lo storm surge e non e non perdevano insomma sono arrivati i primi secondi insomma ragazzi tante cose anche per questi giorni che stanno per arrivare ovviamente aspettiamo tutti la patch io voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale di lasciare un bel like e io sono proprio adesso in live su twitch ciao